Tu capisci quando un giocatore è in fiducia, aveva fatto il gol e quindi è anche più facile, però qui prende la palla e poi subito va a cercare, se questa è l'azione, se questo è in giro, prende la palla, non accorgono su di lui, gli dava la possibilità di mettersela sul sinistro, lui non guarda nessuno, scarica in porta, e anche noi potete fare qualcosa di più, però li calcia molto forte sul primo ballo, e va a trovare il quadro del 3-1, molto bravo, il 3-1, 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 il 3 Il 4-1, 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 il